Quindi Mirea e Dawed, voi vi siete in un primo momento isolati dal resto del gruppo, poi però è arrivato anche il pentimento, guardiamolo insieme. Ho avuto tuttora un crollo emotivo che è dovuto all'uscita di Veda, ho perso una complice, ho perso una compagna, ho perso una persona di cui mi fidavo tanto. Non stai da solo, vieni perché noi ci teniamo assolutamente, guarda te lo dico io ma anche a nome di tutti gli altri, credimi. Secondo me una chance va sempre data a tutti. Non pietro. È giusto che gli si tenda una mano. Io lascerei il bollino nel suo brodo, ciao, vi piace, grazie, senti, non c'hai 12 anni, c'hai 24 anni. Grazie a tutti.